Ciao a tutti! Allora, eccomi con questo nuovo video in cui vi faccio vedere la mia base viso ho deciso di realizzare questo video perchè in questo modo ogni volta che vi faccio un make up tutorial occhi è inutile che vi faccio vedere sempre la mia base, il mio fondotinta correttore, mascar... no fondotinta, correttore, cipria non lo so, illuminante perchè faccio sempre sostanzialmente la stessa base, quindi è praticamente inutile, quindi vi faccio questo video in modo tale che vedete un po' i prodotti che utilizzo una volta per tutte spero che questo video vi possa essere di ispirazione, utile in qualche modo noi ci vediamo alla prossima, vi lascio al video applicazione e nulla vi mando un bacio, ciao! ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.